Ma perché lei del PD che cosa ha da dire? Allora, prima c'era il Partito Comunista, poi l'IDS, poi adesso mi sfugge, questi che praticamente sono comunisti Beh mica tanto, Renzi è democristiano Ci hanno portato in Europa senza fare referendum e loro si sentono democratici Ci hanno fatto pagare pure il biglietto? Come no? Eh, ma però, dico, Renzi è democristiano, è una giovane boy scout No, ma fatto da ridere quando dei famosi 80 euro Eh E' tutto propaganda, no? 80 euro, ci sono quelli che morono, ci sono i disoccupati, quelli merito di 80 euro e anche di più Ma quello sarebbe almeno, no? Eh beh sì Tutto sommato 80 euro, ma io per esempio dico una cosa, no? C'è un professore, Baldassari, che dice che ogni anno il magna magna, sprechi, ruberie, costa 60 miliardi Altro che 80 euro Loro si sentono democratici, perché non fanno il referendum a riguardo dei vitalizi? Eh, perché non lo fanno? E loro si sentono democratici, ci hanno portati in Europa senza fare il referendum Si sentono, mi fanno schifo a me quella gente, mi viene il volto a stomaco E se ne vanno subito a casa Vabbè, allora cambiamo discorso, se no si sente male